Diamo il benvenuto alla professoressa Ada Ciolli dell'Istituto Tecnico e Logistica Cabotto di Gaetta. Professoressa, siete venuti qui con quanti alunni? 40 alunni. Avete svolto durante l'anno scorso e anche in quest'anno un programma inerente alla sostenibilità, allo sviluppo e all'internazionalizzazione che sono i temi centranti di questa Assemblea ALIS? Sì, siamo proprio in previsione anche dell'esame di Stato, l'abbiamo messo in sito come percorso didattico, in modo tale da interfacciarci anche con le altre discipline. E quindi i vostri ragazzi che cosa si aspettano da questa Assemblea Generale ALIS? Sicuramente quanto ho studiato in classe è un contatto proprio con le aziende e con la realtà lavorativa che oggi abbiamo in Italia e in Europa. Come vi siete avvicinati ad ALIS? In verità sono stati loro che ci hanno cercati e noi con piacere da tre anni partecipiamo a queste manifestazioni. Ah, quindi non è la prima volta che venite, è la terza? Sì, è la terza volta che veniamo e sia a novembre abbiamo partecipato all'Assemblea Generale che in primavera alle altre manifestazioni che tiene ALIS. Cioè il Transportec? Sì, quello sull'ecosostenibilità che si è tenuto a maggio dell'anno scorso. E poi si è a Piazza di Siena, esatto. Va bene, quindi oggi che contributo vi aspettate dall'Assemblea Generale ALIS? Qualche risposta da parte soprattutto del nostro Ministro dei Trasporti per quanto riguarda l'evoluzione del trasporto intermodale. Perché in effetti ALIS ha una grande partecipazione dei rappresentanti istituzionali, cosa che non si trova facilmente altrove. Sì, per questo che noi cerchiamo sempre di venire a queste conferenze generali anche per capire come si sta evolvendo il campo del trasporto marittimo. Bene, allora... E ovviamente anche via gomma e via strada. Va bene, allora buona assemblea. Grazie.